appunto di essere da sempre un uomo di sinistra formatosi nel cattolicesimo democratico. Forse l'ha giudicato un po' troppo presto lei o pensa che... Ma no ma scusate, adesso io, a me va bene tutto. Conte ieri ha detto, ha speso parole di lodi per l'ONG dopo aver filmato i decreti sicurezza, che peraltro non sono tutti da buttare, ci sono le parti sull'ONG che però sono proprio da buttare e ha fatto, è l'esempio clamoroso del trasformismo italico perché sta facendo un passaggio che è un passaggio da un governo che era a guida leghista sostanzialmente, che se lui non condivideva poteva anche lasciare, a un governo a guida Movimento 5 Stelle. Ed è vero che è a guida Movimento 5 Stelle. Basti pensare che le cose che stanno dicendo oggi, cioè il mantenimento di quota 100, il mantenimento com'è del reddito di cittadinanza, che non sono a favore della totale cancellazione del reddito di cittadinanza, sono due cose diverse. Però sono provvedimenti che insieme fanno 35 miliardi in tre anni, che la rinazionalizzazione di Alitalia, cioè il PD ha rinunciato come era prevedibile ad avere una sua agenda. Io non so qual è l'agenda, quali sono le cose che il PD vuole portare? Cioè il Green New Deal, ma senza spiegare che cosa vuol dire. Per esempio, se tu parli di ambiente, il gas è una componente fondamentale come economia di energia di transizione perché non puoi andare solo a energie in innovabili perché non le puoi stoccare l'energia e quindi quando non c'è il sole non si va, quando non c'è il vento non si va. Questa roba è affrontata o non affrontata? Ora mi sembra che il PD stia convergendo sull'agenda di 5 Stelle. Conte sta facendo un'operazione di riposizionamento suo personale e questo non vuol dire che magari non sarà bravo o non sarà efficiente, ma oggettivamente è una roba che io come cittadino, come cittadino, un attore politico ma anche come cittadino, non posso guardare. E lo ripeto, allora bisognava fare un'alleanza, andare alle elezioni perché questo sarebbe stato un passaggio con i passaggi programmatici che diceva Travaglio, cioè ci si incontrava, si discuteva dei problemi che veramente separano, facevano un loro percorso, delle differenze si discute, non delle cose che sono inevitabilmente valide per tutti perché se no non ci vuole niente.